Con Fernanda Visalli parliamo di questa iniziativa, ancora un gruppo di volontari che dopo il sentiero delle chiazzette si ritrova qui in piazza Roma, in piazza Cappuccini per ripulire in maniera spontanea. Sì, infatti noi ci è venuto spontaneo dire ripuliamo la città e l'iniziativa l'abbiamo chiamata di conseguenza così. Abbiamo finito due settimane fa credo le chiazzette, siamo venuti qua pensando di trovare un po' meglio e invece è un disastro sporchissimo da qualsiasi parte, ancora non abbiamo neanche finito, è venuta della gente, sono già andati via e veramente cadono le braccia. Non abbiamo bisogno di sentire poi tanta gente che alla fine è tutto sporco, che si è protratto già, intanto che si protrae da tempo perché c'era roba e che comunque sporchiamo, il dato di fatto è che sporchiamo, quindi bisognerebbe già lasciare pulito prima di ridurre un parcheggio in queste condizioni. C'è Domenico Barresi che collabora sempre veramente in maniera e ci sono venuti i volontari, adesso sono andati a casa perché oggi è una giornata di caldo. Dimostrate senso civico o quello che dovrebbero avere in tanti accesi? Sì, purtroppo non c'è un punto della città che si salvi, discarichi a cielo aperto ovunque con centinaia di chili di immondizia, non è un lavoro che possiamo fare in tre, ci vuole la collaborazione di tutta la città, proprio di tutti. Sì, quindi spero che intanto ci sia l'educazione ambientale, non si scaraventino sacchiette a terra, bottiglie a terra, si cerchi il cassonetto più vicino e si curi i beni della propria città. L'iniziativa proseguirà anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi? Per quello che possiamo fare noi con le nostre forze perché ancora la gente è scettica, non si avvicina, spero ci sia più collaborazione, più aggregazione della cittadinanza.